Vuoi preparare il tiramisù alle fragole e nutella? Sei nel posto giusto! Ecco come farlo in 5 semplici mosse. Pulisci e lava 300 g di fragole. Passale al mixer con un cucchiaio di zucchero. Inumidisci 300 g di savoiardi nel composto ottenuto. Ammorbidisci 300 g di mascarpone a temperatura ambiente. Incorpora 150 g di nutella e lavora il composto. Prendi 6 piattini da dessert. Su ciascuno metti una base di 3 savoiardi e distribuisci un po' di passata di fragole. Distribuisci un primo strato di mascarpone e nutella. Sovrapponi 3 savoiardi in posizione perpendicolare rispetto ai primi. Aggiungi uno strato di passata di fragole e un altro strato di mascarpone e nutella. Concludi con uno strato di panna montata e ricopri con delle fragole tagliate a fettine. Metti 6 piattini in frigo per almeno 3 ore. Consiglio! Per un effetto pirotecnico, prima di servire, spolvera la superficie con un po' di scaglie di cioccolata fondente. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Iscriviti al canale per non perdere le prossime ricette. Nella info box trovi link importanti e il dettaglio della ricetta. Iscriviti al canale per non perdere le prossime video. Iscriviti al canale per non perdere le prossime video. Iscriviti al canale per non perdere le prossime video. Iscriviti al canale per non perdere le prossime video.